89esimo, la Lazio perde a casa sua contro l'Udinese, 1-2, 1-2 E che dire, l'Udinese in trasferta a Roma contro la Lazio ha sempre fatto, quasi sempre fatto punti E oggi sta raccogliendo bottino pieno, con una grande gara d'attenzione Perché Okoye, che io ricordi nel primo tempo, vero, Zaccani prende un palo Poi si manda un gol da spingere in porta Però Okoye di parate non ha fatte Non mi ricordo, non mi ricordo Però anche l'Udinese nel primo tempo Sì, provvedendo le fatte da parate perché Una su Lovric con il tiro centrale, potente, parato Uno su Camerà, sempre su Invenzione di Lovric Poi su un colpo di testa di Giannetti Mette in angolo E diciamo che Era partita bene la Lazio Poi l'Udinese si è riassestata e ha cominciato a far male Però nel primo tempo I gol non si sono visti La sblocca l'Udinese Su un tiro cross di Camerà Spunta il piede di Lorenzo Lucca La mette le spalle di Brovedele Che non può far nella Ma subito dopo Un affondo di Zaccani E sempre mi pare sulla sinistra Prova a mettere in mezzo La deviazione Di Lautaro Giannetti In fila Ocoglie Ed è uno a uno appunto La Lazio prova Trova a spingere Ma Ocoglie Fa una gran parata Su Forse lui si è avverto Io ho qualche problema di memoria ragazzi Scusate Però fa una gran parata Questo nuovo ricordo Anche con una deviazione di Giannetti In mezzo E poi arriva Zarr raga Che segna il suo secondo Di golle In campionato Sul Sul servizio Oh mamma mia Provedele Sul servizio di Toven Prende questa palla col destro E la piazza dove Provedele non può arrivare E Niente Il vecino ci ha provato col tacco E ora Provedele Stava parlando una frittatona Per il 3 a 1 Dell'Udese Fallo di Pedro E quindi ragazzi Sono stati dati 7 minuti 3 Se ne sono andati Mancano 4 3 punti d'oro Dovrebbero essere 3 punti Per l'Udinesi Nella zona bassa Della classifica Mentre a Lazio La Lazio Rimane Lì Fuori Dalle zone europee E Dovevano Far 3 punti Oggi Laziali Perché Comunque Per accorciare Sul Bologna E andare a meno 8 Invece Ancora Meno 11 Niente check Per il rigore Per il contatto Provedele Lucca E Pazzesco Pazzesco L'Udinese In trasferta Con le big Ha fatto 3 punti Con il Milan All'andata 3 punti Con la Juve A ritorno Sta facendo 3 punti Anche All'Olimpico L'Udinese Piace Piace Costruirsi La salvezza Con le grandi In trasferta Ecco Nau Si fa Spellere Per doppio Giallo Fallo Tattico E allora La Lazio Può provare A riprenderla Nel finale Mamma mia Potrebbe cambiare La partita Ragazzi Potrebbe cambiare La partita Mancano 3 minuti Doppio Giallo Porca Puttana Se l'Udinese Tiene Questo Non lo so Forse Poteva essere Il cuore Se l'Udinese Tiene Questo 2 a 1 Pazzesco Pazzesco Vediamo Gli ultimi Assalti Della Lazio Tanto Anche se Pareggia Lazio